L'influenza stagionale sta arrivando. Non lasciarla passare. Col vaccino anti-influenzale proteggi te e chi ami. Rivolgiti al tuo medico o al pediatra per sapere come fare. Dai la precedenza alle persone più esposte al rischio. Persone anziane, persone fragili, personale sanitario, personale di pubblica sicurezza, chi lavora a contatto con animali, chi dona il sangue, donne in gravidanza. È importante anche per la doppia circolazione di influenza e COVID-19. Vaccinati e rispetta le misure di prevenzione. Lavati spesso le mani e non uscire se hai la febbre per evitare i contagi a catena. Assieme al vaccino anti-influenzale, fai il pieno di prevenzione contro COVID-19, pneumococco ed herpes zoster o fuoco di Sant'Antonio. Staremo bene se viaggeremo insieme nella stessa direzione. L'influenza circola, ma tu puoi fermarla.